Musica Telespettatori marchigiani buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo subito con la pagina della cronaca. Un 68enne di Poggio San Vicino è stato denunciato dai carabinieri. Per 35 anni è insegnato nelle scuole della provincia ed in più ha partecipato a sopralluoghi e perizie nelle zone terremotate senza aver mai conseguito la laurea. Della vicenda sono stati informati gli enti pubblici interessati dagli abusi, l'ordine degli ingegneri della provincia di Macerata dove l'indagato risulta iscritto dalla 1984 e la Corte dei Conti. Un arresto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, possesso di arma clandestina e documenti falsi è il risultato di un'operazione condotta dagli agenti di polizia di Ascoli e San Benedetto. Un'abitazione di campagna sulla strada che conduce ad Acquaviva Picena era infatti diventata meta quotidiana di numerosi ragazzi per l'acquisto di eroina. Dopo un appostamento protrattosi per qualche ora, le forze dell'ordine facevano irruzione all'interno dell'edificio per dare corso ad una perquisizione al termine della quale è stato arrestato un tunisino di 33 anni, sequestrati numerosi involucri di droga occultati tra la vegetazione. E 13 braccianti extracomunitari, di cui 9 con richiesta d'asilo in corso, sono stati fermati ed identificati dai carabinieri di Civitanova Marche. risultavano essere pagati la metà rispetto al compenso previsto dal contratto nazionale, 5 euro l'ora, con lavoro effettivo di durata doppia rispetto a quello regolare, circa 11 ore giornaliere e senza dispositivi di protezione. Il pulmino sul quale viaggiavano è stato bloccato a San Firmano di Montelupone dopo una giornata dedicata alla raccolta dell'insalata. L'autista del furgone e il titolare della ditta pakistani sono stati denunciati per caporalato, cioè intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro. L'impresa inoltre è stata multata per 17 mila euro. Weekend caratterizzato dal maltempo nella nostra regione, in particolare i disagi si sono registrati ieri nella Vallesina e nel Maceratese. Sentiamo Manolita Scocco. Una delle ultime domeniche estive è stata massacrata nella nostra regione dal maltempo. Due in particolare le zone incolpite, la Vallesina e l'area compresa tra il litorale di Civitanova e i centri dell'immediato entroterra. Agli essi, dopo la prima ondata di sabato pomeriggio, la città è stata nuovamente flagellata da piogge e grandine, con circa 120 interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per semi interrati allagati e, come vediamo, alberi caduti lungo alcune strade provinciali. Nel primo pomeriggio di ieri, invece, un violento nubifragio si è scatenato in provincia di Macerata, con un livello dell'acqua che in molti casi ha superato i 50 centimetri in alcuni scantinati. Un'autentica bomba d'acqua che ha colpito in particolare i comuni di Monte Cosaro e Morrovalle. Forti rallentamenti lungo la superstrada 77 per rami e fogliame caduti in abbondanza, mentre un grosso albero è stato rimosso dai pompieri intervenuti con motoseghe ed idrogore nella zona Croceverde. Stessi problemi anche nel Fermano, dove la viabilità, specie lungo l'Adriatica e la cosiddetta Mezzina, è stata fortemente condizionata dal maltempo. Solo in serata la situazione è tornata alla normalità, un po' in tutte le marche. Nottata movimentata a Castelfidardo, lungo la strada provinciale Iesina. Un distributore di benzina, infatti, è stato preso di mira dai gnoti che hanno sradicato con un trattore la colonnina South Service per rubare il denaro contenuto all'interno dopo aver messo un altro trattore dei tronchi d'albero di traverso lungo la carreggiata per ostacolare il passaggio. Malentrata in funzione dell'allarme con dispositivo fumogeno e l'arrivo dei carabinieri ha costretti i malviventi alla fuga verso i campi vicini inseguiti dai militari. I malviventi sono comunque riusciti a far perdere le proprie tracce. Secondo gli investigatori si tratta di una banda di quattro persone, probabilmente dell'est Europa, con un palo. I due trattori sono stati rubati da un magazzino vicino. Un episodio simile è accaduto a Villa Potenza, sempre in questo fine settimana, dove i ladri hanno cercato di scassinare il bancomat di posti italiane, ma per il troppo rumore sono stati notati dai residenti e si sono dati alla fuga. Rubava monetine da un autolavaggio di Cerreto Desi, ma il quarto tentativo è stato immortalato dalle telecamere posizionate dai carabinieri ed è stato arrestato. L'uomo, 45 anni, originario del sud Italia, sposato e disoccupato, si è giustificato dicendo di essere stato costretto a questi ripetuti furti per garantire almeno il cibo alla famiglia. Avrebbe trafugato in totale non più di un centinaio di euro. Ed ora cambiamo argomento. Nello scenario unico di Piazza Duca Federico ad Urbino c'è stato sabato sera l'evento della dodicesima edizione di CNA Idee in Moda. Vediamo. Scongiurato il pericolo pioggia, la serata è iniziata e la passerella si è illuminata con il corpo di ballo del programma Direi Uno, i migliori anni. È iniziata così l'edizione 2018, la numero 12 di CNA Idee in Moda, per la prima volta dopo essere stata sempre a Pesaro, organizzata ad Urbino, nella meravigliosa cornice di Piazza Duca Federico. Confermato il format, un mix vincente tra spettacolo e sfilata, moda e glamour, ospiti e sorprese, tutti i marchigiani i brand in passerella, tre della città ducale, un vero orgoglio per la CNA. Siamo in una location meravigliosa, patrimonio dell'umanità, un sito UNESCO, Piazza Duca Federico, è come essere dentro un libro di storia. Il miglior progetto che in questi anni la nostra associazione ha saputo mettere in campo più le grandi creazioni dei nostri stilisti. Abbiamo unito la moda, la musica, lo spettacolo, io dico anche la storia e la cultura. Con tutti questi ingredienti io penso che la CNA possa essere soddisfatta di aver raggiunto l'obiettivo. A fare gli onori di casa il conduttore radiofonico David Romano e Veronica Maia, volto di Rai 1. Tante star sul palco, da Justin Matera, Elena Morali, passando per Valentina Vezzali, e poi una che le stelle, quelle vere, le studia e le osserva. L'astrofisica e fresca ambasciatrice della città di Urbino nel mondo, Marika Branchesi, alla quale è stato consegnato il premio CNA Idee in Moda 2018. No, io mi sento Marika, non mi sento famosa e sono veramente onorata di tutti questi riconoscimenti dal mio territorio. Un bilancio molto positivo per la mostra Il 400 a Fermo, tradizione ed avanguardia da Nicola Di Ulisse a Carlo Crivelli, organizzato dalla Regione Marche e dalla città di Fermo, tanto che si è deciso di prorogarne l'apertura sino al 7 ottobre rispetto alla prevista chiusura del 2 settembre. Un successo di pubblico dunque che dal giorno dell'inaugurazione 20 aprile ad oggi ha fatto registrare oltre 8 mila visitatori che hanno ammirato le splendide opere esposte nella chiesa di San Filippo. Oltre 500 famiglie della nostra Regione riceveranno i voucher per gli asili nido. Sentiamo. Sono 515 le famiglie che riceveranno i voucher della Regione per gli asili nido per un valore complessivo di un milione di euro. È stata infatti approvata la graduatoria dell'avviso pubblico per l'erogazione di voucher alle famiglie per servizi educativi 0-36 mesi, autorizzati ed accreditati. Una iniziativa per aiutare le giovani coppie che lavorano dopo l'esperienza molto positiva dello scorso anno, con alcuni miglioramenti. Si andrà avanti anche l'anno prossimo, annuncia l'assessore Loretta Bravi. Il valore massimo del voucher concesso è di 2.000 euro da spendere per 10 mensilità nell'anno educativo settembre 2018-luglio 2019. Possono accedere ai voucher famiglie e coppie conviventi con figli da 3 a 36 mesi di età, che frequentano nidi e centri per l'infanzia, nidi domiciliari e sezioni primavera pubblici o privati accreditati. I genitori devono essere occupati e avere un ISE non superiore ai 25.000 euro. Siamo alla pagina sportiva odierna, capriamo con il calcio, pesante sconfitta ieri sera per l'Ascoli nella seconda giornata del campionato di Serie B. I bianconeri sono stati battuti 2-0 a Perugia con una doppietta di Vido, ma decisiva ai fini del risultato è stata la clamorosa incertezza del portiere Peruchini in occasione del raddoppio ad inizio ripresa dei Grifoni, con un rinvio ribattuto in rete proprio dall'attaccante dell'Under 21 Azzurra. L'espulsione di Kings li poteva riaprire i giochi, ma l'Ascoli non ha avuto la forza per recuperare. Grande delusione dunque per i circa 1.000 tifosi al seguito. Così, con un solo punto in due partite, la classifica per l'Ascoli inizia a farsi precaria. Nella Coppa Italia, DC sconfitta senza troppi rimpianti e che va al di là dei propri demeriti per la fermana. 0-2 arrecchioni con i rieti che si è imposto grazie alle reti di Pepe e Todorov. I Canarini, ancora in piena fase di preparazione su un terreno reso allentato dalla pioggia, hanno comunque a tratti fatto vedere le proprie potenzialità, soprattutto con il playmaker Gian Donato. Va avanti nella Coppa di Serie D il Castelfidardo, che batte 3-2 la Iesina con doppietta di Calabrese e gol di Severini, mentre per i Leoncelli sono andati a segno Pierandrei e Magnanelli. In amichevole il Matelica è stato superato 3-0 in casa d'Alfano. Facciamo ora un break con il podismo e l'Happiness Run, ieri a Porto dei Canati con una foltissima partecipazione di atleti. Sentiamo Mario Giannini. Seconda edizione della Happiness Run, domenica a Porto dei Canati, con la presenza di 800 podisti di tutti i livelli, dai semplici passeggiatori che hanno percorso 3 km, spingendo anche il passeggino o camminando con i parbucani. Chi si sentiva più in forma ha avuto modo di percorrere 8 km, mentre per gli agonisti la distanza è stata di 15 km. Ritrovo e partenza dal Parco Europa, con un percorso completamente pianeggiante che ha portato i podisti lungo la Litorania che conduce a Numana. Si è gareggiato anche nel segno della solidarietà con la presenza del gruppo Gli Insuperabili di Giulia, che si dedica alla terapia e riabilitazione dei disabili che hanno partecipato alla 3 km sospinti da tanti amici. La gara dal punto di vista agonistico per il settore maschile si è risolta al decimo chilometro quando Julian Mendez, ingegnere, triatleta francese, che da anni lavora a Tolentino, ha lasciato la compagnia di Marco Bianchi, podistica a Montegrenaro e Michele Martufi delle Elpidiense, giunti poi nell'ordine. Vittoria per il settore femminile, anche qui un ingegnere, di Denis Stapatà della Stamura Ancona, anche l'elettriatleta, che ha preceduto la Recanatese della Grottini Team Francesca Bravi. Al terzo posto Yana Sabchenko, sempre Grottini Team. Ascoltiamo una veloce intervista con il vincitore e la soddisfazione del sindaco di Porto Recanati per la manifestazione. Allora, arrivo dalla Francia, sono ingegnere, quindi sono venuto qua in Italia per lavorare per l'azienda Arena, che fa costume di ovani, occhialini a nuoto, e quindi da un anno, un anno e mezzo che sono qua in Italia, sì. Ma tu sei un triatleta però, che va anche forte quando corre a piedi. Sì, diciamo che all'inizio, quando ho cominciato da cinque anni, sono un atleta, e poi mi sono messo al triathlon, però da due anni sono stato recluto in Francia con delle squadre molto forti del triathlon anche. E questa è una gara che oggi per fortuna il tempo ha retto, perché ieri è stata un po' così così, che c'è stata la manifestazione del triathlon dei piccoli, che è andato peraltro bene anche quello, ma vedo tanta partecipazione, è una gioia vedere quando riescono le cose, insomma. All'organizzazione sono stati molto bravi e, dico la verità, a noi fa molto piacere, anche se c'è qualche piccolo, non inconveniente, ma sacrificio per la popolazione, però chiudere la strada un'ora, un'ora e mezzo per fare una cosa del genere è sicuramente positivo. Siamo al volley perché inizia la nuova stagione della Lardini-Filottrano, che si è ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri, per dare l'avvio ufficiale dell'annata agonistica 2018-2019, la seconda in Serie 1. Un primo approccio utile per salutarsi, conoscersi e farsi gli auguri di buon lavoro. Presente la società al completo, Mauro Moretti in rappresentanza dello sponsor Lardini, lo staff tecnico guidato da coach Luca Chiappini, le atlete Baggi, Cardullo, Cogliandro, Di Giulio, Garzaro, Pisani, Rumori e Yi Cheng Yang. Nella tarda serata di oggi arriverà in Italia la statunitense Courtney Schwan, poi sarà la volta della Basila Antonachi e della Whitney. A salutare la squadra ha anche una numerosa rappresentanza della Curva Over. Dopo il maltempo del weekend di cui abbiamo diffusamente parlato, vediamo quali saranno le condizioni meteo per martedì 4 settembre. Per te che sei sempre alla ricerca, per te che la felicità è sentirsi dire ti aspetto a casa. Moplan Arredamenti è per te, con i suoi 5.000 m2 di esposizione di cucine, living, camere, arredobagno, centro specializzato materassi, grandi marchi, prezzi speciali, interior designer a disposizione e servizi altamente qualificati di falegnameria interna, trasporto e montaggio, Moplan Arredamenti, Castelplanio Ancona. Ci vediamo a casa. Una notizia di basket, prima sgambatura stagionale dopo 12 giorni di allenamento ininterrotti per la XL Extra Light Poderosa a Monte Granaro. Sulla distanza dei 4 quarti da 10 minuti, con punteggio azzerato alla fine di ogni periodo, i gialloblu hanno portato a casa il primo parziale per poi soccombere nei restanti tre al cospetto dei Roseto Sharks, prossimi avversari anche nel campionato di Serie A2. Mancavano tra i gialloblu tuttavia treire e testa per piccole noie muscolari. Nel prossimo weekend la XL Extra Light sarà impegnata a Fabriano per il trofeo Nuova Sima, semifinale sabato 8 con i gialloblu impegnati alle 20 contro i padroni di casa della Gianos, finali domenica 9 settembre contro la vincente tra Vuelo e Pesaro e Termoforgia Iesi. Con questo è tutto per il nostro telegiornale, grazie per averci scelto, appuntamento a domani.